Rosa Filardo, cugina diretta di Matteo Messina Denaro, rinnega il parente e la mafia. Insieme al marito, che collabora con la giustizia, abitano ancora a Castelvetrano. La rottura dei propri familiari è una sofferenza. Lei è Rosa Filardo ed è cugina di Matteo Messina Denaro, perché la madre di Rosa, Rosa Sant'Angelo, e la madre di Matteo sono sorelle. Da ragazza Rosa è stata intesa fimmina di caserma, perché si permise di rivolgersi alla stazione dei Carabinieri per una denuncia e fu rimproverata. Rosa Filardo è sposata con Lorenzo Scimarosa, che già da me si collabora con la giustizia. La donna, tramite la RAI, ha reso pubblico il suo no al cugino e alla mafia. Entrambi, Lorenzo e Rosa, non sono protetti in una località segreta, ma dimorano ancora a Castelvetrano per loro scelta. E a casa, insieme a Rosa Filardo e Lorenzo Scimarosa, vi è anche la suocera di Scimarosa, la madre di Rosa, la zia materna di Matteo Messina Denaro. Ha testimonianza che la famiglia delle latitante, se non dissociata, si è quantomeno disgregata. Le parole della cugina delle boss sono Basta con la mafia. La mafia non porta né sviluppo né ricchezza. Con la mafia la popolazione e i giovani non hanno futuro. Proteggiamoli i nostri giovani. Oggi Rosa Filardo è infermiera e ricorda che il marito Lorenzo fu intenzionato ad arruolarsi nella Guardia di Finanza, ma gli fu opposto un bivio perentorio. Ho la divisa, ho tua moglie. E lui scelse la moglie. E' stato imprenditore edile, poi banco mat dell'attitante Messina Denaro, poi ha saltato il fosso. Ancora le parole di Rosa Filardo sono Chi ha paura cammina a testa alta. Quanta ipocrisia a Castelvetrano. Da una parte ti sussurrano che hai fatto la scelta migliore, poi ti isolano. Matteo, non lo vedo da 35 anni, è un fantasma che ha legge su Castelvetrano. E delle fantasma gli investigatori rispolverano alcune fotografie d'epoca, prima della latitanza dal 1993 in poi. L'ultima foto risale al 1982 ed è la prima che ritrae Messina Denaro per intero. La corporatura è esile. Infatti lui è inteso usicu. Poi la sigaretta in mano, Malboro Rosse, l'orologio d'oro Rolex e gli occhiali a goccia, Ray-Ban. E poi il doppio petto, le scarpe abbinate e l'atteggiamento Spavaldo. Il 1982 fu l'anno del battesimo del fuoco, del primo omicidio di Matteo, figlio di Donne Ciccio Messina Denaro, campiere della famiglia Dalì, la stessa famiglia del senatore Antonio Dalì, appena assolto, anche in appello, dall'accusa di concorso esterno alla mafia. Diciamo, conseguenza di tutta una serie di precedenti sperimentazioni.